Cosa pensa dell'impegno della CIDA e dei manager italiani per il rilancio del Paese e di questo momento di confronto con i candidati alle elezioni? Io penso che l'impegno dei manager non solo è opportuno, ma è addirittura necessario e indispensabile. Siamo arrivati in questo momento ad avere l'Italia in una situazione di crisi, dove le carenze più rilevanti sono nell'incapacità di gestire la cosa pubblica o di gestirla secondo criteri assolutamente non condivisibili. Invece i manager in azienda sanno come fare, come gestire, con anche una responsabilità nei confronti del management e degli azionisti. Quindi gestire la cosa pubblica con criteri razionali e valutabili, quindi secondo il principio dell'accountability e della governance è un'esigenza ormai urgente, immediata. In quale ambito ritiene che le organizzazioni dei manager possano maggiormente contribuire a migliorare la politica del Paese? Direi in molti ambiti, perché non è solo una questione di ambito di intervento, di applicazione, quanto più di metodo di gestione della cosa pubblica, come dicevo prima. Quindi l'apporto dei manager è fondamentale per cambiare la mentalità della pubblica amministrazione, dei politici e quindi introdurre dei criteri anche, ripeto, di valutazione dell'operato dei politici. Cosa pensa del programma politico CIDA, delle priorità e delle azioni individuate? Direi che è un programma completo, ben fatto, faccio i complimenti a chi l'ha redatto e devo dire che corrisponde al programma della lista Monti, dell'agenda Monti e quindi siamo assolutamente sulla stessa linea e con gli stessi principi di cambiamento, perché l'Italia ha bisogno di concretezze, poche parole, più fatti. Alla luce della sua esperienza, su quale delle priorità del programma CIDA intende impegnarsi maggiormente nel corso del suo mandato elettivo e in che modo ritiene si potrà misurare il risultato di tale impegno? La mia professione è quella di dottore commercialista, quindi di solito io affianco i manager e gli imprenditori nella gestione delle aziende, quindi sicuramente il campo della fiscalità, dello sviluppo economico, del sostegno alle imprese in crisi, alla costituzione di nuove imprese è sicuramente un terreno che mi vede interessato e sicuramente penso di poter dare un apporto professionale.